Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del pagellone barra giorno dopo inerente come ovvio che sia della partita Napoli-Barcellona partita terminata per 1-1 un punteggio che ci fa rimanere abbastanza a galla in vista per il ritorno e ovviamente giocare a Barcellona non è mai facile però la speranza c'è ancora per il passaggio del turno delle piccole indicazioni ci sono state a me è piaciuta il fatto che i ragazzi ci abbiano provato almeno di riportare in campo le idee del nuovo allenatore e questa cosa almeno dal mio punto di vista è molto apprezzata e già si vede, già si è sentita soprattutto dal fatto che non ci sono stati fischi dopo 30 minuti di dominio a Barcellona e neanche fischi alla fine della partita quindi vuol dire che un tifoso ha capito che Calzona non poteva fare miracoli e quindi va bene il pareggio anche se c'è un pochino di amaro in bocca e Calzona nel post partita lo ha detto chiaramente qual è il problema ed è un problema che io ho detto spesso in diversi video e anche in live ma prima di continuare io vi invito come sempre iscrivetevi al canale e condividete il video e lasciate tantissimi piace se ovviamente il video vi dovesse piacere inoltre cliccate sulla campanellina per ricevere sempre aggiornamenti commentate le vostre opinioni riguardo a ciò che dico, riguardo a ciò che avete visto se l'avete rivista la partita riguardo a ciò che avete letto in giro e poi in descrizione troverete tutti i miei social soprattutto Instagram dove vi tengo sempre aggiornati su ciò che faccio eccetera 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 anche dal punto di vista privato ok e poi troverete anche il link del canale Twitch dove vado sempre e spesso in live infatti stasera dalle ore 20 vado in live per parlare, per guardare, per discutere di Roma Firenord e in bocca al lupo alla Roma che oggi è la partita decisiva per la Roma non vedo in Milano ma io alle 7 perché Milano ormai c'è Correnna tutto bene, poi se escono Correnna, ma Pioli proprio ciao sa da proprio andare al centro sportivo del Milan ma comunque lasciamo stesso discorso Napoli-Barcellona, abbiamo affrontato il Barcellona appunto non il Polgocrema, non una squadra di Serie C ok con tutto il rispetto per squadra di Serie C e torno a ripetere, affrontare il Barcellona a 48 ore o quasi anzi meno dalla sfida, cambiare allenatore, cercare di far capire che il nuovo allenatore deve far capire alcuni concetti nuovi ai giocatori non era facile e non era praticabile a 48 ore dalla sfida però, però, gli alcuni concetti, come ho detto ieri, li ho visti in campo è proprio questa la cosa che mi fa apprezzare da parte dei ragazzi che almeno ci hanno provato, ci hanno provato ok, andiamo a leggere un attimo alcune uscite sia di alcuni giocatori che di Galzona vabbè Di Lorenzo ha detto Osimane è tornato con la testa giusta nonostante avesse qualche problema fisico Guayesus ha detto Sì, sì, viene cacciato l'allenatore Mazzarri è anche colpa nostra noi ci abbiamo provato poi ha litigato sì, abbiamo sofferto con Barcellona no, con le squadre di Serie C io, tutto il rispetto quindi, perché un giornalista l'ha pure lanciato la frecciatina e lo ha risposto anche in maniera molto molto garbata Traoré ha detto abbiamo affrontato una squadra importante è stata una partita complicata ma siamo stati bravi a reagire sto bene, la mia condizione fisica è in crescita non so quanti minuti ho nelle gambe lo valuterò giocando ma sono a completa disposizione dell'allenatore e devo dire che il suo ingresso mi è piaciuto Beret il gol di Lewandowski è stato bravo a stoppare e calciare veloce sul primo palo magari potevamo evitare l'imbugata centrale Rachmani Rachmani Rachman eh ma queste squadre contro queste squadre può succedere siamo stati bravi a recuperare il risultato ripartiamo dagli ultimi minuti perché gli ultimi minuti almeno in Napoli ha dimostrato sia di esserci fisicamente ok e sia di provare a mettere in pratica le idee di Calzona Calzona che io l'ho sentita l'ho sentita diretta non è contento non è contento sa che c'è da lavorare e sa ovviamente che è stato allenatore da pochi da poche ore si può dire e però vede che questo Napoli può assolutamente migliorare Calzona ha detto il risultato ci viene in corsa e sulla prestazione a livello caratteriale sono contento perché la squadra non si è mai arresa anche grazie a Meret mi porto a casa lo spirito ritrovando ritrovato di questa squadra che ha avuto voglia di lottare per 95 minuti e fin qua non ha detto niente di male perché dal punto di vista caratteriale dal punto di vista motivazionale dal punto di vista che è stato trascinato sono stati trascinati dalla voglia dalla garra c'è stata ok poi è vero grazie a Meret perché se non ci fosse stato Meret probabilmente avremmo subito 3 gol 3-0 fino al primo tempo e ciao però automaticamente Calzona fa la critica e dice questa squadra ha perso troppe certezze troppi cambi di atteggiamento troppi stravolgimenti nei sistemi di gioco dobbiamo prediligere ordine in campo che ora non vedo ordine in campo perché voglio ieri ho visto al di là di 48 ore bla 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 ho visto riparti sfilacciati centro campo difesa e centro campo ho visto giocatori sfilacciati ho visto raccabani che stava alto guayesus un po' più centrale arrivere un po' più centrale e sulla sinistra non c'è nessuno oppure difesa ordinata ma proprio di orenzo largo olivera largissimo e raccabani guayesus un po' più larghi cioè scivuole ordine per non parlare il centrocampista voglio che ci è mancata troppo la qualità là in mezzo è una cosa assurda continua calzona il problema è più mentale che fisico io che cazzo mi dico sempre io che sono un incompetente di merda io l'ho sempre detto il problema è mentale fisicamente i giocatori si sono ripresi grazie alla preparazione atletica di Mazzarri che ha dovuto fare un richiamo di preparazione pre-Torino come ha detto lui ok quindi fisicamente la squadra si è ritrovata la reazione avuta negli ultimi 20 minuti dice che fisicamente stiamo anche abbastanza bene il fatto di aver lottato fino al 95esimo mi soddisfa perché la squadra ha ritrovato uno spirito vincente e questa è una buona cosa per il futuro ed è vero io fino ad ora io non vedo errori per quanto riguarda quello che ha detto Calzona noi vogliamo passare il turno giocare a Barcellona non è mai facile ma noi vogliamo migliorare perché ci saranno delle settimane a disposizione e potremmo e possiamo farlo in vista del match di ritorno noi prima del Barcellona abbiamo Cagliari Sassuolo e è nata partita di domenica prossima o sabato prossimo perché domenica abbiamo il Cagliari poi abbiamo il Sassuolo in via settimanale e poi domenica prossima abbiamo un'altra che onestamente mi sfuggi in nome ma comunque ci sono tre partite a disposizione due settimane una settimana e mezza di allenamenti quindi ce la possiamo fare se i ragazzi mettono un minimo di coraggio in più secondo me ci possiamo un pochino riprendere bisogna lavorare a livello tattico coprire palla difendere in avanti con più cattiveria stare stretti una cosa che ancora non siamo capaci di fare c'è da lavorare lo sapevamo ma è segnale che mi ha dato la squadra è stato importante e sono soddisfatto Raspadour è un giocatore di grandissima intelligenza per giocare in tanti ruoli può fare il trequartista l'attaccante centrale tirandosi fuori l'attaccante esterno si è a destra e a sinistra ho parlato con lui e lui è stato disponibile quindi già uno che parla invece di invece di Garcia che è in conferenza stampa no Raspadour può fare l'esterno Raspadour ha guardato un po' così già uno che parla che è Jugadour ce lo può stare mi è piaciuta la voglia di recuperarla non nascondo che a un tratto pensavo di vincerla dobbiamo lavorare ma se c'è questa disponibilità tutto diventa semplice ringrazio anche i tifosi che hanno cantato anche quando stavamo in difficoltà non era scontato cosa ne ha funzionato? la squadra doveva stare più compatta e stretta loro giocano con un trequartista e lo cercano tanto abbiamo messo poca pressione davanti a tratti nella gara e questo ci ha dato difficoltà ci ha creato difficoltà in campo tengo tu questa è una bella risposta in campo tengo i giocatori che fanno bene noi nomi politano ha fatto una partita strepitosa chi sta facendo bene resta in campo chi non fa tanto bene no ho tanti ho grandi attaccanti da utilizzare comunque Cavarascaile è un top player e ci darà una grandissima mano oddio è partita strepitosa politano forse a livello tattico ma a livello qualitativo poi vedete mi ho avuto a politano però politano poi è vero io mi aspetto gong sulla destra sulla 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 destra ok a posti politano che gong secondo me più freschezza più voglia più voglia di dimostrare secondo me può fare molto molto meglio io per quanto mi riguarda Calzona ha dato delle risposte oneste risposte non alibi non ha manco parlato del io sto da 48 perché voglio se ci fosse stato Mazzarri avrebbe detto sicuro ma io ho lavorato poco tempo sicuro avrebbe detto ciò quindi già il fatto che fa una critica a tutti seppur velata però dice nello stesso tempo possiamo migliorare perché la squadra mi segue ok che già ho visto delle piccole indicazioni potremmo fare molto bene qualcuno ho letto ho letto nei commenti eh ma noi non tiriamo mai in porta vaiù non tiriamo mai in porta ok politano è un egoista del cazzo che guarda schelia ieri ha giocato malissimo ma pure si è giocato malissimo vede sempre il triplicato raddoppiato raddoppiato o triplicato a centrocampo noi attualmente abbiamo giocato con caiuste e anghissà che hanno due due x due ferie da stilo a posto di piedi quindi serve uno che tira da fuori e il tiro da fuori viene da un centrocampista e il centrocampista potrebbe poteva essere zelischi che è rimasto fuori ma anche se dovesse giocare alla testa altrove ok e ci manca proprio la qualità centrocampo perché ieri voglio ieri si è vista il mancato coraggio a tratti di una verticalizzazione in avanti da parte dei centrocampisti non di Lobotka che qualche verticalizzazione l'ha fatta ma da parte delle mezzali cioè le mezzali o stavano troppo alto o stavano troppo dietro palla dai piedi è come se la palla scottasse non hanno osato ok mi è piaciuta la sovrapposizione dei terzini e Politano non ha premiato manca una volta l'inserimento né di Lorenzo né del centrocampista che si era che si era inserito ok però ci sono delle piccole cose che i ragazzi si devono ritrovare come ha detto Calzona mentalmente e io aggiungo fiducia nel prossimo perché mi sembra che alcuni ragazzi non si fidano tanto del pro cioè è come se pensassero ok Politano ha la palla e se la passo anche se chi l'ha aperto può colpiammi a colpiammi chi sa chi le parte l'incontro a meno questo secondo me c'è mancanza di fiducia nel prossimo Calzona deve cercare di far riunire il gruppo che secondo me la strada può essere ben ben tracciata poi ovviamente tutte ste parole di elogio però sta da cominciare a vengere ovviamente perché ok Barcellona tutto quello che vogliamo ma domenica a Cagliari 2-3-0 tutto bene perché se parla loro Cagliari loro Barcellona boh quindi tutti gli alibi abbiamo giocato Barcellona quindi ci può stare pareggio nonostante noi che veniamo da questo periodo però con Cagliari basta mo tieni quasi una settimana di tempo mo oggi subito al lavoro oggi probabilmente chi ha giocato farà un lavoro di scarico quindi eh no domenica non voglio alibi e non farà conferenza stampa Calzona quindi hai anche più tempo per preparare la partita Pagella Meret 6 e mezzo ci ha salvato letteralmente il culo tecnicamente non mi è piaciuto anche se veniva pressato si è uscito bene Di Lorenzo 6 normale amministrazione anche se si è fatto saltare proprio all'ultima azione mi sembra Barcellona in una maniera proprio proprio superficiale Rachmani 5 perché Rachmani 5 perché là non puoi uscire Rachman là non puoi uscire non puoi uscire capisco che forse Calzona ti dice di prestare alto ma là automaticamente anche colpe di Angissac doveva coprire il giocatore che era pronto a fare il filtrante che era De Jong il cazzo era ma comunque era Angissac automaticamente che doveva coprire Rachmani che automaticamente stava nella sua posizione e Lewandowski forse non si sarebbe liberato però Dugraro Rachmani vedendo Angissac che stava a pascolare le pecore Rachmani è uscito ed era una situazione 1 contro 2 Wajesos contro Lewandowski con anche Di Lorenzo quindi eh Rachman 5 Wajesos 6 un inizio un po' un po' così un po' incerto però poi si è messo a disposizione e l'ho visto bene ben attento onestamente Olivera il migliore in campo insieme a Meret 6 e mezzo bravo nelle sovrapposizioni bravo in occasione del gol eh bravo nelle nelle diagonali e bravo anche nella copertura sulle sulle palle alte e sul cross quindi bravo anticipare eh Yamal a parte gli ultimi dieci minuti ma si vedeva che Olivera non ne poteva più però alla fine anche durante gli ultimi dieci minuti ha resistito Angissac 5 e mezzo discorso del gol poi nel complessivo si è svegliato negli ultimi dieci quindici minuti però non basta per modificare il voto per quanto mi riguarda lo botca 6 e mezzo come sempre pratica nel deserto più totale perché è l'unico centrocampista di qualità che abbiamo Angissac e Cajust sono due feriti a stiro e quindi va bene Cajust 5 e mezzo un pochino meglio per me di Angissac qualcuno dice ma inutile m di legno m così m colà per me io ribadisco sempre questo discorso per me Cajust è un centrocampista a due non può fare la mezzala e oggi o meglio ieri è stato costretto a giocare a mezzala alla Zelischi ma lui non può giocare alla Zelischi ovvero uno che porta palla uno che va avanti e fa l'ultimo passaggio non ha quelle qualità e non può fare quella cosa quella cosa la può fare Traore alla Zelischi quindi 5 e mezzo che gli è il centrocampo ha tolto lo botte ha giocato molto sottotono Politano 5 e mezzo solito lancio lungo lancio lungo lancio lungo bravo a tratti nella fase difensiva però Politano sta facendo in nervosia onestamente Osiman 6 e mezzo per il gol altrimenti sarebbe stato 5 perché nella fase di non possesso non ha proprio aiutato per quanto mi riguarda poi vabbè può essere anche l'alibi che non si sentiva tanto bene va benissimo però nel secondo tempo è tornato indietro ad aiutare molto più spesso rispetto al primo tempo quindi 6 e mezzo vabbè Kvara 5 Kvara 5 soprattutto per come è uscito e sinceramente Kvara che protesta sempre Maschka Satukaz Calzono l'ha detto io non guardo i nomi io guardo chi gioca meglio poi lascia stare che Politano ha giocato un po' così e così però io da Kvara Skelia onestamente mi aspetto un pochino di più è vero che se gioca molto più largo gli avversari lo conoscono quindi dovrebbe giocare un po' più stretto con Olivera che porta l'uomo sull'esterno ok però mi aspetto qualche inventiva in più da parte di Kvara Skelia mi aspetto qualche qualche genialata in più ok ma per come è uscito io lo metterei in panchina per almeno uno o due partite è vero è un giocatore indispensabile per il Napoli ma ha detto Calzone è un top player sì ok però non bisogna avere non bisogna avere i giocatori preferiti e i giocatori preferiti vanno messi perché se uno si comporta una merda panchina Kvara bisogna trattarlo come con Luciano Spalletti bisogna usare la tecnica del bastone e della carota stop per quanto mi riguarda ok subentranti Traorei 6 Raspadori senza voto a punizione ha fatto granché Simeone 6 l'ho visto bene è entrato Lindstrom 6 e mezzo ha spaccato completamente la partita ci ha provato però aveva davanti Barcellona cazzo aveva davanti Barcellona e io col Cagliari mi aspetto Traorei titolare a centrocampo why you ah Calzone a 6 che non poteva fare niente di più monestamente comunque a livello qualitativo a livello di bellezza di estetica è stata una brutta partita sinteticamente parlando però questo Napoli può migliorare se ascoltano Calzone se la smettono di fare i mugugni come la schelia osimen e compagnia cantante e inizino a restare più uniti e anche ribadisco avere fiducia l'uno nell'altro why you forza Napoli sempre vi aspetto al prossimo video vi aspetto stasera in live per Roma Feyenoord e non solo e buona giornata a tutti ah giustamente ciao io Grazie